Una passeggiata nel verde è sempre una gran bella cosa, come pure una corsa, lontani dalla frenesia del traffico e dei gas di scarico. Ma quando il verde è rappresentato da una muraglia di erbacce, la faccenda si fa meno piacevole. Ne sanno qualcosa i frequentatori del lungargine del Bacchiglione, che dal ponte Quattromarti riporta in direzione della Guizza. Un argine molto caro ai padovani, che approfittano di ogni momento libero per fare due passi, una corsa o una pedalata. Peccato che in alcuni punti, anche all'altezza delle attrezzature del percorso vita, l'erba si è diventata molto alta. Troppo alta, secondo alcuni. Non le sembra un po' alta questa erba qui sulla pista? Eh sì, devono tagliarla. Sarebbe ora di tagliarla? Eh sì, sì. Residenti sportivi assicurano che l'ultimo sfalcio sia stato eseguito più di un mese fa e di questi tempi, con il caldo, l'umidità e le piogge di agosto, l'erba cresce molto rapidamente, con tutte le conseguenze del caso, sia da un punto di vista prettamente estetico, che da quello igienico-sanitario. Con il corso d'acqua vicino e le case a un passo, queste foreste miniatura potrebbero diventare molto ospitali per qualche animaletto. Il boschetto, così lo chiamano alcuni degli sportivi che corrono sul lungargine, ci è stato segnalato dai nostri telespettatori e noi giriamo la segnalazione a Palazzo Moroni per una pronta sporbiciata alla tazzera verde dell'argine.